Un saluto da Tg della Mobilità, domani torna l'appuntamento con la Maratona di Roma. La gara è prevista a partire dalle 6.45, partenza e arrivo saranno in Via dei Fori Imperiali. Per lasciare spazio all'allestimento delle strutture che ospiteranno l'evento, già dalle 14 di oggi sarà chiusa Via dei Fori Imperiali, sarà chiusa anche Via di San Gregorio e Via Celio-Vivenna. Poi dalle 5.45 alle 14.30 circa di domani le chiusure si estenderanno lungo tutto il percorso interessato dalla Maratona. Saranno temporaneamente sospese 9 linee, altre 9 saranno deviate, mentre altre 54 saranno limitate. Inoltre, su richiesta della questura, verrà chiusa temporaneamente la stazione Colosseo della linea B della Metropolitana. Grazie a tutti.